Ciao a tutti! Benvenuti! Benvenuti in un altro nuovo video. Oggi giocheremo con il maglialotto che fa il botto. Ok, vi spiego il gioco. C'è un dado per tirare, capito? Deve tirare e in base al colore che c'è, prendete il colore che c'è qua. Tipo verde, prendete il verde. E qua praticamente dovete formarmi. Qua vuoi scegliere il colore? Qua vuoi scegliere il colore e qua ognuno di panino c'è proprio rosso. Il viola c'è proprio viola. I rossi sono i propri rossi e i gialli sono i propri gialli, i verdi sono i propri veri. E questo è il nostro maglialotto che mangerà i nostri panini. Ok, quindi ricapitolando, si gioca da due a sei giocatori. Ci sono quattro, otto, dodici, sedici panini di quattro colore. Si tira il dado e a seconda del colore si prende un panino. In questo caso scegli tu. Quindi prendi un panino a caso. Vai. Ok, gira e fa vedere che colore è. Due. Che numero è, scusate. Vai. Due. Lo mettiamo in bocca al nostro maiale. Vedete? E premiamo sulla testa per due volte. Vai. Ok, perde chi alla fine scoppia la panza con le mani e la cintura. Vedete che qua si toglie e vi faccio vedere quando perdo, perde mamma. Ok, quindi adesso tocca a me. Rosso, io scelgo questo. Quattro. Quindi vado a premere quattro volte. Uno, due, tre e quattro. Quello che ci fa paura, scoppi. Vai. Questo è molto divertente, visto che si avvicina al periodo di Natale. Babbo Natale, chiedete un bel gioco da tavola. Come questo. Allora, c'è pure l'elefante che devi prendere farfalle, è semplice. Vi consiglio di comprare questi due giochi, sono i giochi più divertenti del mondo. Però, l'elefante deve prendere le farfalle e sudi. Quindi è perfetto in queste stagioni. E questo è perfetto per tutti i giorni. Quanto sei carina, amore. Ma sei brava, amore mio. Quindi adesso a Babbo Natale. Chiedete questo. Chiedete questi giochini, così da giocare insieme a mamma e papà. Se ci avete dei bambini, chiedetelo, lo giuro. Lo dovete chiedere. Date retta a me. Date retta a Lady G. Vai. A Lady Gaia. A Lady Gaia, scusate. Quindi che colore è? Era viola. Ah, vabbè. Ok, lo vediamo. Ok, viola è destino. Vediamo che numero è. Quattro. Mostralo qua. Quattro. Ok, vai. E se scoppia è perso. È premuto tre volte, però. Non farà, eh. Quattro. Niente. Quando scoppia è proprio simpatico. Io scelgo i colori oggi. Sempre così. Allora, uno. Che figo. Qua c'è bianco e qua scendono. Mi gioca un altro maio. Vai. Comunque c'è paio già pure qua. Eh sì, qua c'è tutta la spiegazione. Ecco qua. C'è scritto le cose scritte con i panini, vedete? Con i panini là. È molto, molto simpatico. È dell'asbro. Ok, verde. C'è pure le cifrocche. C'è pure le cifrocche da maiellino. Guardate, è carino. Vai, verde. Vediamo, eh. Vorrei farvi vedere quando scoppia. Ma sono sincera. Non tutti ai... Tre. Ai, come si dice? Non tutti i turni scoppia. Vai. Ma che c'è fiera? Ci sono partite in cui dovete giocare due volte. Però dopo vi facciamo vedere. In teoria non si deve meschiare. Però io l'ho meschiato. Non parare. Premuto due volte. Ok, tre. Ci sono partite in cui dovete ritirare fuori i panini e rigiocare. Non si dovrebbe meschiare ma io l'ho fatto. Uno. Niente. Ancora niente. Vai. Tocca a te. Se no, vi chiedete in corpo. Se vede che non stavate per scoppiare l'alto. Passa turno che è una cosa buona. Perché questo turno almeno non perdete. Poi colore a caso, verde. Ehi, l'ho trattato io però. No, è mio. Vabbè, poi giocate per bene. Non fate come Gaia che si inventa un po' le regole. Ehi, uffa. Vai. Ha preso due giallo. Ah, sì, perché è vero. Era inventa un colore qua. Vai. Vorrei farvi vedere quando scoppia perché è fighissimo. Niente. Ancora non è pieno. Otto maialotto. Giallo. Qui dietro c'è un cassetto che lo potete aprire e prendete i bambini. Uno, due e tre. Esatto. Volevo farglielo vedere dopo quando scoppia oggi. Quando ce l'avete. Vai. Non bisogna vedere l'istruzione perché ci siamo noi che vi spieghiamo. Basta rivedere questo video e... Et voilà. E capite. Vai. Tre. Vediamo, eh. C'è paura quando scoppia? No. Mettiamo più qua che non si vede. Non so a ridere però. Vai. Uno, due e tre. Niente, mannaggia, miseria. È insaziabile questo barchetto. Au, quando scoppi. Giallo. Che togliamo faffa la pupò. Quattro. Uno. Due, tre e quattro. Ovviamente quando tiri il cassetto sembra che fa la pupò. Quindi si dice fa la pupò il maialetto. Quando ha finito il mangio è vero che fa la pupò. È certo. E quindi lui fa la pupò. Vai, Viola. Uno. Mannaggia. Brava, vai. Uno. Niente. Nada de nada. Perché ve l'ho detto, passo turno. Ve l'ho detto, non tutte le partite scoppia. Vi faccio vedere da dietro. Ecco. Si tira la codina per liberarlo. E si tolgono i panini da qua. In modo e maniera da continuare la partita o rifarla. Quell'arri me ne ha detto. Vai, che ho fatto passo turno. Non mi è capitato. Vai, scegli il colore. Rosso. Tre. Vai. Vai, faccio io. Vai. Uno. Due. E tre. Mannaggia, è insaziabile proprio questo maialino. Ah, quando... Quando... Viola. Tre. Quando scopri che vogliamo far fare la pupò così ti facciamo vedere come fa la carta. Due. E tre. Vai. Poi adesso sono rimasti pochi panini, è difficile trovare il colore. Verde. Eh, sei fortunata, eh. Vai. Quattro. All'anzia perché è un po' duro. Uno. Due. Ecco qua, avete visto? Sei. È scoppiato ma abbiamo messo talmente dura la cinta che non è scoppiata. Vedete? In teoria avrebbe dovuto fare di questo. Vabbè, riprendiamo i panini. Poi, una volta finito, girate la codina a sinistra, aprite il cassettino e tirate fuori tutti i panini. Piscinano i panini sul tavolo. Vai. Ma quelli potete mettere così, così uscite meglio. Ok, va a raccogliere quelli per terra. Una volta che è svuotato qua, vedete? Si chiude così. Vai, come era rosso il mio colore per te. Si rimette la cinta come una vera e propria cinta. Si tirano giù le braccine. Vai, metti la cintina tu. Ok, fai tu perché con una manina non riesco. Ok, riagganciate la cintina dentro i buchini. Ci riesci? Ecco. Ci riesci? Ok, vai, fatte le manine. Quest'altra manina. Oddio. Ce la faranno i nostri eroi? No, non ce la fanno. Aiutami, con una mano non ci riesco. Allora, in teoria è un gioco molto semplice e molto divertente, però con una manina... Non ho la paletta per darti una palettata in faccia. Una manina, non riesco a tenere il telefono e a chiudere le manine, però in teoria... Ok, uno e due, perfetto. A questo punto potete fare un'altra partita, quindi come sempre noi vi invitiamo a lasciare un like. Dove c'è il nado? Eccolo. Vi invitiamo a lasciare un like, vero Gaia? Si. Se vi piace questo video mettete un like, se non vi piace mettete un dislike, suonate la campanella lì in su. Ci vediamo! Ciao, baci baci!